Stampa, elettricità, motore a scoppio, informatica. La storia è ricca di innovazioni tecnologiche che hanno stravolto l'economia e la società. Oggi è la volta dell'intelligenza artificiale, arrivata al grande pubblico con ChatGPT, un sistema capace di dialogare con gli umani e di imparare sempre cose nuove. Ma l'intelligenza artificiale è nostra amica o nemica? La diffidenza verso le grandi novità è comprensibile, ma la chiave sta nell'utilizzo che si fa di queste innovazioni, inclusa l'intelligenza artificiale. Per gli investitori è importante sapere che si tratta di un mercato che secondo le stime arriverà a valere 1.590 miliardi di dollari entro il 2030, che crescerà a ritmo sempre più veloce. L'intelligenza artificiale sarà il megatrend più rilevante dei prossimi anni, ma nel mondo della consulenza la componente umana è e resterà centrale, perché la condivisione delle emozioni non può essere sostituita da una macchina.